... Continuano le nostre proteste estreme per chiedere il trasferimento periodico intermunicipale, cioè tra un municipio e l'altro, di Roma, dei vigili urbani indipendenti di uffici tecnici comunali. Questo per garantire trasparenza e imparzialità nel trasferimento delle proprie funzioni, a garanzia dei cittadini e a garanzia della pubblica amministrazione, come garantito appunto dall'articolo 97 della Costituzione italiana. La nostra richiesta è di trattare i dipendenti di questi comparti lavorativi ogni tre anni, però questa richiesta si è arenata nell'ufficio del sindaco alemanno. Dopo aver rincassato diversi pareri positivi da parte di alcuni presidenti di municipio, come per esempio il presidente del municipio del 13esimo, dove ci troviamo appunto, siamo al 13esimo, di fronte all'ufficio della città comunale, la sala consigliare appunto del 13esimo municipio, e dopo aver rincassato anche il parere positivo del condivisibile, diciamo, della condivisibilità di questa nostra iniziativa da parte del presidente del 13esimo municipio, Giacomo Vizzani, a questo punto abbiamo incontrato anche il vice comandante generale di Vigilipani, Diego Porta, che a nome del comandante generale ci ha dato in qualche modo un parere positivo anche per un trasferimento intermunicipale per Quadranti. La richiesta si è arenata, ripeto, negli uffici del sindaco alemanno, o meglio, dell'assessore al personale Enrico Cavallari, che sta rispondendo con un silenzio assordante alle nostre richieste, richieste d'incontro per valutare questa situazione. Purtroppo la corruzione in questi comparti lavorativi dilaga, è un fenomeno dilagante, non siamo noi a dirlo, ma sono le croniche giudiziarie, e abbiamo da tempo già annunciato di tenere responsabile politicamente il sindaco alemanno e tutta la sua giunta di eventuali reati perpetrati appunto da questi comparti lavorativi e questi dipendenti. Perciò vediamo ogni tre anni trasferimenti periodici dei vigili urbani da un municipio all'altro e ogni tre anni appunto dipende di uffici tecnici comunali. A questo punto la nostra protesta non si fermerà, abbiamo già fatto molti incatenamenti, diversi siti istituzionali, giornali, eccetera, non si fermerà assolutamente fin quando il sindaco alemanno non ci darà appunto a questo incontro e come sono stati già altri funzionari, appunto autorità del comune, comunali, che hanno ritenuto condivisibile questo nostro progetto. Ripeto, garantire infarzialità e spredamento delle funzioni dell'istituto da parte di vigili urbani e dipendenti di uffici tecnici. Ci sono alcune mele marce che purtroppo si lasciano andare a comportamenti omissivi e illeciti e questa nostra protesta è mirata a garantire sicuramente i cittadini e la pubblica amministrazione ma soprattutto gli stessi dipendenti che sono la stragrande maggioranza appunto di vigili urbani e degli uffici tecnici che sicuramente compiono il loro dovere con abnegazione e con grande attaccamento alle istituzioni, grande senso delle istituzioni. Perciò non possiamo prescindere appunto per quanto ci riguarda da questa nostra richiesta. Chiediamo ai cittadini di continuare a denunciare queste nostre violazioni da parte di questi comparti lavorativi. Noi abbiamo sposato questa causa, la porteremo sicuramente avanti. Ripeto, per garantire anche il prestigio e l'immagine di questi comparti lavorativi. Perciò corpo di polizia municipale e uffici tecnici pubblici affinché la trasparenza e l'imparzialità vengano garantite a tutti i cittadini e non ci siano più reati di questo tipo.